Ciao ragazzi, ben ritrovati all'Inter di Football, qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi. Il primo episodio di questa settimana, la prima partita in terza divisione, si è conclusa con un pareggio contro un avversario di tutto rispetto, dove l'Inter però aveva fatto quel passo in più, purtroppo si è trovata di fronte un super Oliver Kahn. Seconda partita di giornata, seconda partita in divisione 3, vediamo che tipo di avversario ci si presenterà, ma prima di fiondarci su questo avversario, come al solito ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti perché mi aiuta tantissimo e vi ringrazio per questo. Vediamo chi è l'avversario di oggi. Ragazzi, io poi tra l'altro ho fatto un'ennesima build diversa di Stefano Sensi, che tra l'altro non vi ho fatto vedere, perché vabbè che ha giocato anche Klaassen tra l'altro nell'herby d'Italia con la Juve, ma ho preferito Sensi, più che altro ci sono un legato per la grande metà stagione che ha fatto qua sotto la guida di Conte. L'ho fatto centrocampista stavolta, non mediano, visto che come mediani usiamo Barella e Aslani come mediano praticamente. Io avevo fatto una build come mediano, per mantenerlo diciamo lento. E adesso invece l'ho fatto mezzala, che non è esattamente chissà che, però Arsenal, terza divisione, se ho visto bene. Ve la faccio vedere al volo. Tra l'altro è rinformissima, forse la proviamo anche. Questa è la build che ho fatto da centrocampista, quindi come vedete non ho potenziato le caratteristiche per quanto riguarda la difesa, ma mi sono concentrato sulle sue caratteristiche da mezzala, quindi ha un debole 75 in velocità, discreto, tanto di un'accelerazione e poi ottimi valori per quanto riguarda poi dribbling e passaggi, ma questo non c'era dubbio. Anche il tiro non è granché, però è questo quello che abbiamo come sensi. Io non so se farla questa cosa, innanzitutto metto quadrato che è informissima. Turam non ce la fa, ci mettiamo Arnautovic per il semplice fatto che mi serve comunque qualcuno alto, nel caso devo fare i lanci alti. Io provo a fare questa cosa di cui sicuro mi pentirò, sensi e frattesi. C'è De Vrij anche, informissima, anche Audero, ma Audero anche no. Vediamo un attimo l'avversario, c'è Romario, quello nuovo, Neymar e Denilson, tutto il Brasile, quindi una squadra clamorosa, lasciamo quelli come stanno, non me ne voglia il buon De Vrij, ma ho paura di questi super veloci. Forse non dovrei neanche mettere sensi e frattesi, ma ormai è fatta, la decisione è presa. Voglio fare solo un ultimo check, ragazzi, voglio vedere se ci sono di nuovo i valori di resistenza che sono bruttissimi, io non mi trovo davvero. Schermate la partita, vediamo se ci sono, barra potenza, resistenza, togliamolo. Non lo voglio vedere perché mi dà proprio fastidio sullo schermo, quindi lo tolgo. E devo vedere l'ultima cosa, ragazzi, prima di cominciare, voglio solo confermare che stia giocando con... gioca con CLS e SP. Io le marcature CLS e SP ce le metto, ragazzi, perché... per come è allargato Messi, secondo me, è perché gli vuole dar pallone e vuole giocare su di lui. Il problema è che c'è anche Vierà. Ragazzi, vi vedo, Vierà è il mio incubo, Vierà contro è il mio incubo. Credo veramente sia il giocatore più influente su questo gioco, veramente un giocatore clamoroso, troppo, troppo, troppo forte. E si parte, l'Ajax a battere. Mi raccomando Sensi, fai una buona partita. Mamma mia, subito. E poi Bastoni che spazza, evitiamo problemi. Con Lautaro che prova a prolungare, c'è Sensi al centrocampo che... riesce a giocarsela quantomeno, non a vincere il contrasto, ma a giocarsela. Bravissimo qui Pavard. Poi Sensi proprio. Varela che va da Frattesi. Ancora Marco Ornauto per proteggere questo pallone. Bellissimo l'1-2 con Frattesi che calcia sulla respinta. Stefano Sensi è lui a portare l'Inter in vantaggio. La nuova build esordio. Buono l'1-2 fra Frattesi e Arnautovic. E Sensi sulla ribattuta si fa trovare prontissimo. Mamma mia, quadrato che intervento con l'aiuto di Pavard. Poi Arnautovic a cercare di vincere questo contrasto e alla fine riesce comunque a dar fastidio abbastanza all'Ajax. Poi Sensi che prova a servire Lautaro anticipato. Ancora Sensi che prova ad avventarsi su questo pallone. Non ci riesce. Mamma mia, queste palle per un niente. Poi Frattesi, prova ad alzarla, ma sbaglia tutto Frattesi. Qui attenzione che questi errori poi li paghiamo caro. Infatti c'è Neymar che è lanciato come un treno sulla sinistra. Ancora Frattesi a rimedia. Mamma mia, ragazzi. Cioè, avevamo noi il pallone letteralmente, ma sembrava... Poi Arnautovic che prova a servire Lautaro. L'idea non era mica male. E' qui. E niente, ragazzi. Neymar lo abbiamo coperto sul... Diciamo, per rientrare a giro. Ma è andato in velocità davanti a Sommer. Non ha sbagliato il pareggio, quindi... Mamma mia. Ancora questa palla per... Frattesi che si infila. Calcia col destro. Ennesima gran parata del portiere. E niente, ci facciamo anticipare anche da questo giro. Peccato qui. Bravo Pavard. Chiudere tutto, poi... Mamma mia, ragazzi. Questi rimpalli, veramente... Una tragedia. Qui ancora Frattesi ad infilarsi che... Veramente una spina nel fianco per adesso. E' qui. Troppo in anticipo, anche più, del suo avversario. Romario in avanti per Neymar in area di rigore. Ma è fuori gioco. La fortuna dell'Inter. Pavard è quadrato in linea, fortunatamente. Qui si prova a giocare direttamente, ovviamente, sull'unico... Alto in avanti, che è Arnaud Ovec. Vediamo se riesce a difendere il pallone. Ci riesce. Palla quasi buona, poi... Darmian, che serve quadrato sulla corsa. E' fermato, però. Senza neanche troppi problemi. Questo quadrato chiamato. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare quest'azione? Bravo. Di Marco, ragazzi, qui ho dovuto spazzare. Perché se provo a non premere nulla, non so se la prendi oppure no. Almeno con la... Con... La palla spazzata abbiamo la priorità. Bravo, Bastoni. Che chiusura. Fratesi, bravo ad aprire per quadrato. Chiamato a scendere qui. Bravo quadrato, anche a servire Lautaro. Eh, ma... Riesce ad andarsene Lauti. La metti al centro... Per Arnaudovic. E qui fa quasi un mezzo casino la difesa... Dell'Ajax. Poi c'è Sensi. Bravo. A tenere il pallone. A servire... Di Marco. Sulla sinistra. Crosso al centro. Sta arrivando Lautaro fermato. Bravo Di Marco. Ad aiutare Sensi a recuperare questo pallone. Ancora poi Stefano Sensi. Che la tiene. Serve Di Marco in aria. E qui... Vierà anche da dietro, ragazzi. Anche se proviamo a difendere il pallone. Anche da dietro riesce... A prendersela. Bravo. Bastoni in chiusura. Ma addirittura Messi a vincere questo contrasto. Poi Di Marco che la recupera. Fortunatamente per l'Inter. Poi Sensi che la alza. Palla deliziosa per Lautaro. Che va da Marco Arnautovic. Che calcio. E sbaglia incredibilmente, ragazzi. Sbaglia incredibilmente Marco Arnautovic. Che azione dell'Inter. Ma che palla deliziosa. Di Stefano Sensi. Mamma mia. Qui Arnautovic per un pelo non va ad anticipare. Ci riesce invece Barella. Quadrato che arriva come un treno. Guadagna il fondo quadrato. Il cross al centro è rimpallato. Qui erroraccio c'è... La palla al centro per Lautaro. La gran parata del portiere. Ancora una volta si salva di nuovo l'Ajax. Anche clamorosamente. Che bella questa palla. Per Barella. Di nuovo per Di Marco. Che la alza. Per Barenaria la mette al centro. Ancora una gran... Un gran salvataggio. Poi Stefano Sensi a giro. Ci ha provato. Rimpallato anche Stefano Sensi. Di nuovo Di Marco al recupero. Con insistenza l'Inter. Che brutto questa palla di Di Marco. È sempre l'Inter qui che continua a pressare. E qui via Raga. Grande anticipo. Una lettura magistrale. Ecco Romario. Attenzione. C'è spazio in ripartenza. Mamma mia. Tiro di Romario. Qui bella la palla infilata. C'era... C'era di traquadrato che lo seguiva. Fortunatamente il tiro sul polo del portiere si è concluso con una parata di Sommer. Uno a uno. Perfetto equilibrio. Ma l'Inter che in realtà ha creato molte più occasioni. Si è salvato l'Ajax solo per una grande prestazione del portiere. Qui quadrato si propone. Arnauto per centralmente che prova di tacco a servire Frattesi. Ci arriva Frattesi che poi controlla male. Un po' di caos è fortunato qui nel rimpallo. Attenzione però al contropiede. E lancia in avanti. L'anticipo di... Juan Quadrato che prova ad andarsene in velocità. Servito Frattesi. Si fa vedere Marko Ornautovic che prova a servire Lautaro. Ma c'è Magaiaes. Attento. Niente ragazzi Romario. Non lo si riesce a fermare. Poi in avanti. Ma Darmian è attento. Mamma mia che brutto errore. Regalone qui. Salva tutto Pavar. Non è che si stende. Ma perché Bastogne è lì ragazzi? Fermatelo. Fatelo tornare. Fatelo tornare in difesa ragazzi. Mamma mia. Infatti torna e recupera il pallone. Proprio lui. Ancora un altro... In realtà io non pensavo ragazzi che la prendessimo in quella palla. Perciò ci sono andato così leggero. Qui Frattesi che la alza ma... Su... Su... Viera non passa nulla. Ancora la palla largata per Sensi. Non passa questa palla di Sensi. Poteva darla decisamente meglio. Arnautovic è a dare una mano come vedete. Cambio di gioco ma c'è... Quadrato che anticipa molto bene. Poi il tacco di Arnautovic è brutto. Brutto 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 brutto. Attenzione a Sensi che... Prova... Ah... Da avventarsi su questo pallone. Ah ancora Frattesi all'anticipo. Mamma mia Sensi che è giocata. Se ne va centralmente. Partito Lautaro ma... Sto passaggio ragazzi io nemmeno l'ho capito. Bravo Barella che capisce tutto. Palla alzata per Marco Arnautovic. Gestisce questo pallone in qualche modo ma poi se lo lascia soffiare. Che anticipo di Teo Fernandez ragazzi. Mamma mia che anticipo. Ancora la palla che passa attraverso Frattesi letteralmente. Poi Frattesi che recupera questo pallone. Niente ragazzi non riusciamo qui. Mi sa che bisogna fare qualche cambio. Ancora grande anticipo ragazzi ma noi qui ci siamo fatti leggere un po' troppo facilmente. Poi Pavarra che va di nuovo da Quadrato. L'ho anticipato non ho neanche capito come. Forse semplicemente il passaggio è stato... Ancora Quadrato a rilanciare per Marco Arnautovic. Che non riesce a vincerne uno di contrasto purtroppo. E invece Quadrato che vince un gran... Fa un gran recupero. Ancora palla in avanti. Finisce il messa laterale ma va bene così ragazzi. Quanto si sente la mancanza di Marco Sturam? Ci giochiamo ragazzi gli ultimi minuti con... I boss. Non so se mettere Sanchez ragazzi ma... A Toram non lo posso mettere perché sta male. Quadrato in realtà è quasi... È quasi a terra. Doomfries sta bene quindi mettiamo lui. E direi che ci siamo. Facciamo fatica comunque a salire. Questa è l'impressione. Ecco i gambi. Ho provato a farla passata sta palla. Erroraccio alla fine. Poi Barera che vada... C'è l'anoglio appena entrato. Per Lauti! Che non riesce a calciare contro Magagliaes. Mamma mia ragazzi. Qui uno o due che stava diventando molto carino. Qui Doomfries è entrato molto bene. In aria per Ciala! Ciala col sinistro murato! No, non ti fermare. Non ti fermare mio caro Di Marco che è grave se ti fermi. Un po' di spazio per Di Marco. Si fa vedere Ciala? Bello l'inserimento. Dai ragazzi ma che pallone ha preso Fira. Ma da dove? Come ha fatto? Come ha fatto ragazzi. Veramente impressionante. Cora per Marco Ornauto. Veci che si propone. Prova da crossare. Calcio d'angolo. Che non è forse il meglio che si poteva prendere. L'area dovrebbe essere più affollata del solito. Considerato in poco tempo a disposizione. Dai Basto. Questa la devi vincere. Dai Basto. Contro la Bia Gesus. Addirittura check in uscita. Non so come ci è arrivato fin lì. Non ci vuole davvero niente per partire un suo passaggio. Dai Ciala. In aria. Cialanoglu al novantunesimo. Al novantunesimo ragazzi. Arriva il 2-1. Il gol vittoria. Non c'è più tempo. L'infilata di Mkhitaryan per Cialanoglu. E poi ragazzi non ce ne vogliono i sostituti. Ma c'è un motivo se ce l'anno con il Mkhitaryan. Sono i titolari. Partita vinta sul gong finale. Ma da quello. Poi da vedere anche i tiri in porta. Mi fa capire un po'. L'andazzo. Portire avversario. Decisamente il migliore. Probabilmente. Mamma mia ragazzi. Che partita. 49 punti abbiamo preso per questa vittoria. Vuol dire che questo avversario era fortissimo. Io ho pensato fosse di terza. E in realtà è di terza. Ma è il 374. Tresimo al mondo. E il 374. L'abbiamo battuto. E direi un gran bel risultato ragazzi. Con gol finale al novantunesimo. Ragazzi è tutto per l'episodio di oggi. E per quelli di questa giornata. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato. E ci vediamo alla prossima.